Stop al parcheggio sotterraneo di Piazza del Carmine a Firenze. Secondo quanto si legge oggi sul Corriere Fiorentino, a far naufragare il progetto sarebbero ragioni economiche. Non le proteste dei residenti, non le perplessità dell'opposizione, dunque mai conti che non tornano. Troppo elevati i costi per realizzare un piano in più requisito richiesto per soddisfare l'interesse pubblico dell'opera, come aveva chiesto Palazzo Vecchio. Un investimento per le società promotrici del project financing che potrebbe rientrare solo a lungo termine, il che significa che senza un sostanzioso appoggio del Comune l'impegno dei privati non copre le spese necessarie per il progetto. Difficile in tempi di spending review che l'amministrazione sia disponibile ad affrontare un'uscita senza dubbio onerosa, quindi facile che il parcheggio venga rimandato a data da destinarsi con il concreto rischio che venga accantonato. Il progetto iniziale prevedeva due piani interrati per una spesa di 12 milioni di euro, soluzione bocciata dai residenti ai quali col parcheggio sotterraneo verrebbero tolti quasi 250 posti gratuiti, ostacolo per aggirare il quale Palazzo Vecchio ha chiesto un ulteriore piano ai promotori del project financing, ma scavare un piano in più farebbe lievitare i costi in modo insostenibile, motivo più che valido per far pensare a un congelamento del discusso progetto.